buongiorno a tutti e benvenuti alla rubrica domanda risponde oggi parleremo dell'argomento del giorno cioè le gradatorie provinciali per le supplenze nuovi inserimenti e aggiornamento per il prossimo triennio a partire dal 2022 2023 sono una neolaureata in informatica quando potrò inserirmi nelle gps per insegnare per quali classi di concorso potrò fare domanda di supplenza alla possedendo la laurea magistrale lm 18 di informatica potrà inserirsi nelle gradatorie provinciali per le supplenze note con la cronico gps facendo domanda nella prossima primavera 2022 si presume tra aprile maggio per il triennio 2022 2023 2023 2024 2024 2025 potrà inserirsi nella classe di concorso a 0 41 scienze e tecnologie informatiche a 0 47 scienze matematiche applicate a 0 26 matematica solo se possiede 80 crediti nei settori scientifico disciplinari mat 0 2 0 3 0 5 0 6 0 8 e infine a 0 40 scienze tecnologie elettriche ed elettroniche avendo però almeno 48 crediti dei settori scientifico disciplinari inge ind e inge inf di cui 12 inge ind 31 12 inge in 32 12 inge ind 33 12 inge inf 0 7 seconda domanda sono già inserita con domanda fatta nell'agosto 2020 nelle gps di torino quando potrò fare domanda nuovamente per trasferirmi di provincia il ministero dell'istruzione ha fatto sapere che nella prossima primavera ripetiamo intorno aprile maggio riapriranno i termini per le domande di aggiornamento delle gps cioè le gradatorie provinciali per le supplenze in tale occasione si potrà aggiornare il punteggio e fare eventualmente nuovi inserimenti anche in altre classi di concorso per cui si possiede titolo di accesso e si potrà scegliere la nuova provincia eventualmente dove trasferirsi chiaramente una sola provincia terza e ultima domanda chi ha acquisito acquisirà l'abilitazione all'insegnamento o la specializzazione sul sostegno potrà inserirsi in prima fascia gps chi al momento dell'aggiornamento delle gps è già in possesso dell'abilitazione all'insegnamento o della specializzazione sul sostegno potrà senza dubbio inserirsi in prima fascia per la classe di concorso in cui è abilitato o nella gradatoria di prima fascia del sostegno in caso di possesso della specializzazione invece tali titoli dovrà conseguire entro il luglio 2022 sicuramente potrà entrare negli elenchi aggiuntivi di prima fascia non è dato sapere se consentiranno di inserirsi in prima fascia con riserva nel caso si stia concludendo un concorso di natura abilitante o un tfa speriamo che le risposte a tali domande siano utili ai nostri telespettatori vi invitiamo a seguirci ancora sull'argomento perché tratteremo sicuramente nelle prossime giornate nelle prossime settimane proprio l'argomento delle gradatorie provinciali per le supplenze seguiteci nei nostri canali social facebook e youtube e nel nostro sito www.tecchinegrascola.it arrivederci a tutti